Erano intenti a lavorare in una piantagione di marijuana in una zona rurale di Lamezia Terme. Due persone sono finite ai domiciliari con l'accusa di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari della compagnia di Lamezia, con il supporto dello squadrone li portato cacciatori di Vibo Valencia, nell'ambito di una serie di servizi di rastrellamento in aree che per caratteristiche morfologiche del terreno presentavano condizioni favorevoli per la realizzazione di piantagioni illecite. Hanno sorpreso i due che si prendevano cura di 35 piante di marijuana. In particolare i carabinieri, dopo aver notato la presenza di alcuni indicatori collocati per verificare eventuali passaggi di persone nelle zone interessate, ostacoli lungo le obbligate vie di accesso o posizionamento di fili di inciampo, hanno localizzato la coltivazione nascosta da un canneto. Sul posto è stato trovato inoltre un sistema di irrigazione artigianale collegato ad una vicina sorgente posta a monte della piantagione. La sostanza stupefacente è stata sequestrata per la campionatura e le successive analisi chimico-tossicologiche.